Cosa è la crisi drammatica sanitaria e economica? Il virus finirà per colpire anche lei. Che cosa significa concretamente? Significa che servono scelte immediate e non le scelte ideologiche che sono contenute dentro l'armamentario che è stato costruito. Ad esempio approvare il MES, che è sostanzialmente un fondo finanziario che si muove su una logica privatistica, in questo periodo così difficile rappresenterebbe un aggravamento delle condizioni dell'Europa e degli Stati. E la stessa cosa è mantenersi dentro il patto di stabilità che non ha senso quando c'è bisogno di spendere e di spendere immediatamente. Ma non basta dire via libera alle spese perché non possiamo costringere gli Stati e le persone ad indebitarsi per difendere la salute e per avere quel rettito che non si può realizzare attraverso il lavoro nel momento in cui è impossibile uscire da casa per andare a lavorare e anzi bisogna chiudere le fabbriche perché gli operai non possono essere messi a repentaglio. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna garantire finanziamenti adeguati per la salute immediatamente e cioè per fare quelle strutture laddove mancano, potenziarle laddove ci sono e sono state purtroppo anche tagliate e anche per garantire il rettito. Sono le due misure concrete che richiedono molti investimenti. Come? E lo si deve fare attraverso tutti gli strumenti esistenti o anche inventandosi di nuovi strumenti. E deve essere la BCE, una banca che è quella che può stampare moneta perché noi non possiamo stampare moneta e quindi ci resterebbe solo che comprarla sul mercato privato indebitandoci. Stampare moneta è un potere e quindi anche un dovere, cioè quello di garantire spese immediate come quelle che descrivevo prima che servono poi in realtà non solo all'Italia ma in tutti i paesi europei e servono anche per coordinare le politiche di salute europea che sono necessarie. E poi si possono inventare nuovi strumenti attraverso gli eurobond, ma ancora quelli tradizionali. Abbiamo visto il quantitative easing usato largamente per le banche con effetti francamente non adeguati nel 2008 perché la crisi ha prodotto una società più debole che infatti adesso è più in difficoltà di fronte al coronavirus. Si può fare un quantitative easing sociale destinato invece a misure per la salute e per il reddito. Cioè la BCE deve garantire gli stati o agire direttamente in prima persona. Ci sono i fondi europei che possono essere rimodulati, ci sono strumenti come la Banca Europea degli Investimenti oppure se ne creano, appunto come dicevo, come gli eurobond che non esistono ma che sarebbe il momento di farla. L'Europa o adesso esiste oppure rimarrà vittima del virus.